Siamo nella porta di accesso dell'Expo di Milano 2015, grande evento internazionale. Era importante per noi dello Spoleto Festival Art essere qui presenti con varie manifestazioni, con varie attività culturali. Abbiamo portato degli artisti dello Spoleto Festival Art, abbiamo presentato lo speciale della fiera letteraria di umili artisti e anche un video sull'arte e il cibo nell'ambito della manifestazione Tutto Food. Tutta una serie di attività culturali per portare l'arte contemporanea e la cultura al di fuori dei soliti schemi. Quindi l'arte e la cultura in un contesto fortissimamente internazionale e fortissimamente comunicativo. Noi ci siamo, torneremo anche a luglio, insieme a tutti voi che ci seguite e vi ringraziamo a tutti voi che ci seguite tantissimo e tutti gli artisti che comunque sono vicini a noi. Grazie a tutti per la vostra attenzione e per la vostra presenza. Un ciao a tutti dall'Expo di Milano. Grazie a tutti.